Come In We Are Open è l'evento principe per il Salone del Mobile di Spazio FMG, come tutti gli anni sorprendiamo chi arriva e questa volta lo sorprenderemo veramente perché Come In We Are Open è un evento che nasce dalla collaborazione inedita tra Diesel Living e Iris Ceramica, quindi due mondi molto diversi, due mondi di eccellenza che si incontrano ed esplodono in questo nuovo allestimento che sarà una casa di tre stanze che invece di stare dentro lo spazio, come sempre, buca, va per strada, va in città, si fa attraversare, diventa marciapiede, diventa spazio, uno spazio fatto di materie nuove, date da queste cinque collezioni inedite, da queste stanze, da questi alberi, dallo spazio verde, dal fatto che le persone intera non usciranno continuamente tra la galleria e lo spazio della città, usando queste materie come un modo per reagire al mondo che gli sta intorno. È un esperimento, uno dei tanti esperimenti che facciamo, è nuovo perché racconta di una collaborazione eccezionale, di una sperimentazione unica che passa, diciamo, parte dal textile e arriva alle ceramiche, ma soprattutto è l'occasione per testare un'altra volta quello spazio trasformandolo in qualcosa di completamente diverso. Grazie a tutti. Grazie a tutti.